Buongiorno, ben ritrovati, benvenuti a Occhio ai Giornali, sono le 7.30, siamo in diretta come sempre per farvi guardare i giornali nelle loro pagine e negli inserti locali. Tutto è pronto, però naturalmente guardiamo il santo del giorno e poi le previsioni del tempo. Guardiamo il santo di oggi, venerdì appunto 20 maggio, San Bernardino da Siena, sacerdote, il sole è sorto alle 5.36 e tramonterà alle 20.33. Previsioni del tempo che come vedete, se mettete il naso fuori dalla finestra, non sono eclatanti e la cartografia della protezione civile delle Marche rispecchia questa visione. Vedete, pioggia, nuvole intense, più intense nella parte bassa della regione, ma anche da noi, insomma, se non è zuppa e pan bagnato, inizialmente cielo molto nuvoloso, ampie schiarite, speriamo nel pomeriggio, a partire però dai settori settentrionali appunto. e quindi le precipitazioni riguardano la prima parte della giornata. Le previsioni per sabato si preannunciano, vedete, almeno sulla carta serene, vedete, sole pieno, non c'è manco una nuvola, precipitazioni assenti e le temperature anche in aumento. E per domenica, anche qui, insomma, c'è poco da dire, seleno poco nuvoloso, transito appena di velature e precipitazioni assenti, quindi praticamente dovrebbe essere, almeno sulla carta, ripeto, un weekend di bel tempo. Partiamo con i giornali, iniziamo dal resto del Carlino e da una notizia, una deposizione di panchine che stanno destando tanti commenti e qualche malumore. vediamo subito la pagina di apertura dell'inserto del resto del Carlino di Pesaro che, fotonotizia, appunto, mette le panchine in primo piano. Le disco panchine le chiama appunto in questo modo il resto del Carlino perché, vedete, sembrano delle poltrone da discoteche, pop, pop art, insomma, chi più ne ha più ne metta si scatenano e si sbizzariscono i commenti. Sì, svelato il nuovo arredo in piazzale della Libertà, colorato di bianco e rosso, il sindaco dice scelte degli architetti. Poi in testa di pagina i due bus divorati dal fuoco, nessun innesco, resta comunque un mistero su come si sia appunto acceso l'incendio che li ha divorati in pochissimo tempo e poi la voragine di Orciano che è sotto sequestro. Allora, vediamo, il resto del Carlino dedica due pagine, la 4 e la 5, a questo aspetto nuovo di piazzale della Libertà. Vedete qui in alto a sinistra l'assessore Belloni che è seduto su una di queste e lo stesso Belloni poi dice in un trafiletto qui qualche cosa e Alessandro Bettini dice anche ma perché Ricci chiede un parere ai cittadini dopo aver deciso tutto? Sono meravigliato del silenzio della sovrintendenza e l'assessore Belloni dicevamo appunto si diverte a provare queste nuove sedute. Il sindaco dice scelte dagli architetti però il sondaggio non premia in il Comune. Maggioranza di contatti sul nuovo piazzale della Libertà colorato. E qui di spalle leggetevi questo articolo di Maurizio Gennari che insomma è eloquente nell'incipit ma che confusione perché insomma poi c'è anche altro nell'articolo. Quella zona di Pesaro era stata presa anche in considerazione in passato perché c'è Viale della Repubblica che per le panchine e le sedute anche in quel caso e i lampioni era insomma stata fatta oggetto di commenti in passato. Andiamo sul caso ex Amga, parlano i privati che dicono noi siamo vittime del Comune perché l'imprenditore che parla appunto non ci sta e dicono ci hanno ceduto in permuta al Miralfiore un'area con una discarica sotterranea e un inquinamento storico da idrocarburi e quindi insomma malumori per questa vicenda dure accuse, comportamento immorale nei confronti di aziende in cui lavorano decine di persone. Andiamo nella pagina di Fano del resto del Carlino vi porto lì perché tiene banco ancora il Carnevale adesso si alza la voce anche del primo cittadino di Seri che dice lasciare fuori i contrasti chiede appunto il sindaco di trovare un accordo tra le due fazioni dopo appunto lo sfogo online di Luciano Cecchini Luciano Cecchini appunto che aveva dichiarato chi di voler lasciare ma andiamo anche a Orciano come vi dicevo nella pagina di apertura c'è la voragine che ha fatto sì che quella strada fino ad ora fosse impraticabile e adesso è sotto sequestro appunto la voragine i carabinieri hanno messo i sigili su ordine della procura i disagi innumerevoli, nei giorni scorsi la protesta era esplosa a suono di striscioni, vedete nelle foto del resto del Carlino le condizioni della voragine, insomma è stata ricoperta da dei teli ma sicuramente è una cosa che non può perdurare ancora per molto perché è una strada importante l'altra pagina del inserto fanese del resto del Carlino parla di questo nuovo palazzo Bracci Pagani che svela i suoi tesori sabato e domani ci sarà l'inaugurazione e insomma nasce un ricco polo espositivo perché lì graviteranno espositori, artisti c'è anche un'area museale insomma sarà un polo truistico attrattivo aspettato Filippo D'Averio che presenterà l'artista Giuliano Vangi e le sue opere preziosi che saranno lì in mostra come pièce d'apertura per questo palazzo ritrovato fino al 21 di agosto quindi domani appuntamento per vedere le sale di questo bellissimo palazzo andiamo nel Corriere Adriatico partiamo da Pesaro si titola in modo diverso piloti e motori la passione allo sviluppo dalla passione allo sviluppo è nato il nuovo brand del progetto con Tavuglia e la Regione un milione e mezzo di investimento dopo che insomma l'asse marchigiano romagnolo sui motori non era partito però si va avanti con un progetto autoctono interno e poi falsi d'autore venduti in aste online ci sono le indagini che riguardano due pesaresi contraffazioni di ottima qualità create da mani esperte che conoscevano le arti dei maestri sardi autobus in fiamme eccolo qui vedete in questo articolo c'è riportata un po' tutta la dinamica mezzi letteralmente inceneriti per i vigili del fuoco il rogo è stato causato da un cortocircuito la pagina di Fano del Corriere di Artico anche qui insomma la carnevalesca e le sue vicende sono in primo piano ritrovate la concordia per il carnevale questo è l'appello del sindaco agli eletti nel direttivo dell'ente è ancora possibile una gestione consociata Seri dice appunto Cecchini ha molti meriti apriamoci alle nuove idee mi rammarico dice il sindaco per lo sfogo ma i successi ottenuti sono solo tappe per traguardi sempre più ambiziosi anche perché ci sono diverse questioni in gioco in ballo che la carnevalesca doveva appunto gestire il più prospicente è quello del carnevale estivo e quindi insomma si avvicina la scadenza insomma i tempi stringono vediamo come andrà allora strade per giocare le vetrine da colorare sempre affano per il Corriere Adriatico si parla di questa festa che andrà in scena domenica con una chiusura di Viale Gramsci che sarà tutto a disposizione dei bambini oggi gli scolari però decorano i negozi le vetrine di alcuni negozi che sono state messe loro a disposizione e quindi insomma ci sarà questa invasione di bambini domenica a Viale Gramsci l'appuntamento per tutti coloro che ci vogliono andare è in piazza alle 16 per oggi per appunto colorare e addobbare una cinquantina di esercizi commerciali che hanno aderito a questa iniziativa e poi domenica sarà festa grande appunto per loro in Viale Gramsci come non citare i Ottaviani che oggi compie 100 anni oggi la famiglia regalerà una piantina di pomodoro nero sì perché questo è il suo nuovo must dopo l'insalatina prepasto adesso ha questo pomodoro nero che gli dà questo elisir di giovinezza compie 100 anni Ottaviani e quindi insomma oggi non sarà da meno e non vorrà venire meno al suo sport gareggerà la mattina la passerà alle mille miglia poi al pala indor per tentare pensate 5 primati per questo Ottaviani dei creato apposta per lui e poi la sera spegnerà le 100 candeline ci vorrà anche una bella torta per contenere queste 100 candeline andiamo a Senigallia con il Corriere Adriatico candidati da tutta Italia per un posto di vigile si sono presentati in 417 al concorso da cui uscirà la graduatoria per un'assunzione estiva l'assunzione non è una assunzione in realtà il comune per il 2016 ne dovrà assumere 6 di vigili urbani che saranno più che altro dedicati a valutare le soste i grattini le soste scadute e il controllo della viabilità quindi non saranno vigili armati ma si sono presentati in 417 da tutta Italia quarantenni cinquantenni padre di famiglia madre di famiglia senza lavoro insomma è uno spaccato particolare pensate erano arrivate ben 1174 domande e quindi più di mille ammessi e insomma da questi dovrà uscire uscire la graduatoria per queste nuove assunzioni e poi ecco la volevo rifare vedere mi è sfuggita rombani motori passano i boli delle mille miglia quindi per chi si reca a Senigallia oggi 450 vetture storiche dalle 8.30 di oggi alle 15.30 a Senigallia sfrecceranno per la città e naturalmente ci sono anche le chiusure al traffico la manifestazione prevede lo svolgimento anche di una prova speciale sul percorso storico della città e quindi insomma qui nell'articolo trovate tutte le chiusure e gli orari per cui potete prenderci le misure come si suol dire andiamo nell'ultima testata il messaggero sempre nella sezione di Pesaro locale vedete fotonotizia per De Cristofaro chi è De Cristofaro presto lo vediamo si è tradito in Spagna chattando su Facebook poi parte la terra dei motori Matteo Ricci dice appunto si parte Pesaro Tavulla e la regione presentano il brand del progetto e poi insomma il meteo dice il tempo si ristabilirà questa cosa ci conforta molto allora vediamo chi è De Cristofaro Filippo De Cristofaro qualcuno si ricorda il delitto del catamarano ebbene lui era scappato evaso due anni fa dall'isola d'Elba l'episodio dell'omicidio della skipper pesarese Anarita Curina ammazzata a colpi di macete sulla tolda del suo catamarano nel giugno dell'88 era evaso era scappato in Spagna ma è stato tradito da Facebook e quindi riacciuffato riarrestato in Spagna e poi nella pagina del messaggero troviamo anche i commenti a fine missione lampo in USA di tre giorni del presidente della regione Ceriscioli un bilancio positivo export cultura e ricerca dice abbiamo affinato una fitta rete di rapporti con gli Stati Uniti e poi anche qui non poteva essere diversamente le panchine che stanno diventando le panchine della discordia panchine scultura la palla è pop si chiama in causa la pop art appena installati i moderni arredi di Piazza di Levertà infiammano subito il dibattito e come sempre avviene la città si divide tra pro e contro lo stesso sindaco si sbilancia e gli stesso dice preferivo quelle con i leoni ma forse hanno ragione gli architetti sono coerenti con Viale della Repubblica che appunto vi dicevo anche lì ci sono panchine abbastanza stilizzate abbastanza stilizzate ebbene l'ultima pagina che vi propongo è quella di Fano del messaggero anche qui carnevalesca Cecchini e Seri il quale appunto dice anche qui nel tondo vedete la foto di Luciano Cecchini ha dato molto per fare crescere la festa questo il virgolettato del sindaco però anche questa è la sua dichiarazione ora basta divisioni lettera aperta agli eletti ritrovate subito la strada della collaborazione qui vedete di spalle l'artista Giuliano Vangi invidiatoci da tutto il mondo scultore pittore delle opere veramente splendide ieri siamo stati lì in presentazione di questo evento ci sono delle opere veramente bellissime un artista di caratura mondiale a Palazzo Bracci Pagani appunto l'omaggio dell'arte di Vangi e ancora nelle pagine del resto del Calino quadri dei bimbi all'asta per aiutare i coetani siriani sarà questa un'asta di beneficenza organizzata dal Rotary che si svolgerà domani alla Palagei nella Marina dei Cesiri appunto per raccogliere fondi a favore dei bambini siriani che sono nei campi profughi e che necessitano di una scuola e di andare a scuola per essere strappati alla tragedia dei campi appunto dei rifugiati bene grazie queste erano le notizie principali che troverete quest'oggi nei quotidiani nei giornali grazie per essere stati con noi un saluto anche a tutti coloro che ci seguono in replica appuntamento naturalmente domani mattina per occhio ai giornali alle 7.30 e questa sera occhio alla notizia alle 20.30 buona giornata a tutti voi grazie a tutti